Ma perché? Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi mi vedete un po' capigliatura molto giovanile, con la base sistemata, il mascara, perché nel video di oggi testeremo e metteremo a dura prova lui, ovvero la novità virale ovunque del momento, cioè il Maybelline Superstay Billing Ink. Dovrebbe essere un rossetto liquido, dall'effetto ovviamente vinilico, quindi lucido, che riesce a resistere fino a una decina, 12 ore in una giornata e dovrebbe essere no transfer. Ma ieri quando è arrivato il prodotto ho fatto delle storie, io convinta che il prodotto appunto non venisse via, ho fatto così ed è andato ovunque. Ed è stato anche un po' complicato struccarlo, quindi, essendo che tutti ne parlano, volevo dare la mia opinione, la mia voce della verità al popolo, quindi lo testeremo insieme. Il prodotto si presenta così, molto carino, l'unica cosa di questi prodotti un po' da supermarket è che ogni volta qui c'è sempre l'etichetta, quindi rimane sempre un po' colloso. Al di là di ciò, ho visto che il costo varia dai 12 ai 14 euro in base a dove lo acquistate, l'ho trovato online, in vari siti, io l'ho preso da Amazon, ma anche in negozi fisici. Volevo provare la colorazione 30, che si chiama Unrivalet. Unrivalet? I don't know. Ma mi ispirava tantissimo perché è una colorazione tipo tra il fuxi e il violaceo, di solito non utilizzo questi colori, ma posso stare così in ogni video? Almeno sappiamo che ha superato il cash test. Lo scovolino è uno di quelli in questo modo, quindi è un po' in obliquo, della parte frontale, ma in realtà non è leggermente più grande, è uguale. La fragranza è buonissima, molto molto valiglia, sa proprio di candela alla vaniglia, non di vaniglia ma di candela alla vaniglia. Quindi direi che lo applichiamo e così lo testiamo nell'arco della giornata per vedere se sono veri i video che sono andati virali in questi giorni. Cosa importantissima, che è scritto un po' ovunque, shakerarlo per almeno 5 secondi. Essendo una formula molto liquida, probabilmente necessita di questo passaggio ogni volta. Fatto ciò andiamo diretti. Il colore credo sia bellissimo. È stato semplicissimo applicarlo? Eh sì! Anche sui denti, mi raccomando. Il colore nell'insieme è un po' scurino, però mi piace tantissimo. Pertanto ieri ho fatto degli acquisti su Shane estivi, costumi, completini, e ho comprato un vestito di questo colore bellissimo. Anzi un completo. Quindi se non vi volete perdere pure questo, vi ricordo di iscrivervi al canale. Niente, io aspetto che passino, non so, almeno 5-10 minuti abbondanti, visto che ieri abbiamo avuto quel fail. E torno subito da voi. Imposta un timer di 10 minuti. Ok, sono passati 10 minuti. Direi che è giunto il momento. Quindi prova a bacio. Guardavo di qua perché nel frattempo stavo facendo un tiktok. Cioè, raga, ma sono stigata io? Ma perché? Allora, il tempo di posa non è stato perché ho aspettato 10 minuti con l'orologio. L'ho shakerato prima dell'utilizzo, nel frattempo credo siano passati altri 10 minuti. Continuo a stamparsi. Quindi, siccome non voglio più che il video finisca così, provo a struccarmi e ritruccarmi. Cioè, struccare il rossetto e rimettere il rossetto. Magari ho sbagliato io, non lo so. Forse era rimasto un velo di burro cacao, quindi non ha aderito bene. Non ho idea, ma sicuramente è la mia ultima chance. Lo strucco con un po' di burro struccante perché è troppo difficile da levare in altri modi. Col burro struccante in un secondo va via. Dopo averlo sciolto vado a sciacquare tutto. Mi prego, scrivetemi giù nei commenti. Se l'avete anche voi, l'avete provato, avete riscontrato gli stessi problemi. Magari è il mio che, non lo so, è rovinato. Ne ho preso uno difettoso. Di shakerare 5 secondi l'ho shakerato. A meno che non devi stare qua per mezz'ora di fila. Labbra completamente struccate, asciutte, priva di qualunque cosa. Shakerato per almeno, non so, 5 minuti. Direi che basta. E riproviamolo. Terza e ultima chance, ragazzi. Se no, lo boccio totalmente. Scusate la ripresa tanto zoomata, ma così vedete un po' meglio. Adesso, altri 10 minuti. Cioè, non posso stare a far asciugare il rossetto più di 10 minuti. Ditemi che siete d'accordo con me. E vediamo. Ok, io non ho voglia di risporcarmi la mano, quindi prendiamo un togliolo. Siete pronti alla delusione? Io già sì, sinceramente. 10 minuti lasciato e asciugato. Ok, siete pronti? Questo è il risultato di risultato di risultato di tutti i tiktoker che facevano così e non rimaneva niente sul loro braccio. E vi assicuro che io ho seguito le indicazioni che dice l'azienda. Quindi, chi sta mentendo? Non ho parole, davvero. Sembra tipo un classico rossetto. Comunque magari levo questo strato appunto che si toglie e continuiamo il video? Non lo so. Insomma, vi rendete conto? Continua a stamparsi senza pietà, ma nonostante ciò rimane comunque appiccicoso. Sento le mie labbra appiccicose e comunque ha perso un sacco di intensità il colore. Già a prescindere mi sento di dirvi non credete sempre a tutto quello che vedete online. Magari cercate recensioni da varie persone in modo da poter comparare. Questa, per esempio, è la mia esperienza. Non è detto che sia così con tutti i rossetti della linea. Magari questa tonalità particolarmente scura che si comporta in questa maniera. Ma dopo averlo provato tre volte con gli stessi risultati mi sento di dire che un problema del rossetto è non mio. Onestamente non c'è stato tanto senso. continuare questo video come uno stress test, visto che già non ci sono nemmeno le promesse alla base. Però dai, lo facciamo. Tra l'altro ho fame, quindi adesso lo metteremo un po' anche alla prova. E niente, ok? Si stampa come un normale rossetto in stick. Le labbra rimangono un filino appiccicose. Ma vediamo se almeno regge 12-10 ore. Come dicono. In questo momento sono le 12 e un quarto. E niente, sicuramente adesso stuzzicherò qualcosa. Tra un po' pranzerò e vi farò vedere le varie clip. Quindi a tra poco. Dopo aver pranzato, è passata circa un'ora dall'applicazione. E questo è l'effetto. Già praticamente dopo un'ora. Vedete che andate via un po' la parte interna. Sono passate quasi tre ore. La situazione è uguale a quella di un'ora fa. Diciamo che il colore lo vedo un po' diverso da come era all'inizio. All'inizio mi piaceva molto di più. Comunque bevo un po' di acqua aromatizzata. E mi levo subito queste codine. Molto graziose. Però fanno venire un sacco di mal di testa. Scusate se sono sparita per un po'. Sono già le 5.18. E dopo aver fatto anche merenda, questa è la situazione. Al centro è sparito e ai bordi si è un po' sfumato. E lo sento un po' tipo che si sbriciola. Non mi aspettavo questo da questo rossetto. Penso si fosse già capito dal video. Alla fine sono le 8.10. Scusate la faccia ha distrutto ma ho fatto un cambio stagione che mi ha massacrato. Questo alla fine è il risultato. Chiaramente voglio specificare che non mi aspettavo che durasse come un rossetto di una shade nude. Perché sappiamo che quelli con i colori scuri sono indubbiamente più difficili da mantenere. Ma nemmeno così. Perché è tutt'altro rossetto da quello che è andato virale secondo me. In tante mi hanno scritto di aver avuto il mio stesso problema. Quindi non so se c'è qualche lotto in particolare che non andava bene. In tante altre invece mi avete scritto. Praticamente è andato virale questo mio TikTok. Cosa che di solito non succede. Quindi stranissimo. E tutti quanti mi hanno commentato. E no sei tu che sbagli perché magari sotto avevi il gloss. Non devi spiegarle labbra. Devi lasciarlo asciugare di più. Devi lasciarlo asciugare con la bocca aperta. Infinità di consigli. Che in realtà voi avete visto tutti i video. Io ho seguito. È vero che la prima volta magari avevo un velo di burro cacao residuo. Ma alla seconda volta l'abbiamo tolto con le labbra completamente struccate. Ho aspettato più di dieci minuti col timer. Raga non dieci minuti col timer. E niente. Comunque. Il mio voto alla fine non è sicuramente positivo. Perché da quello che si vedeva online. Quello che è risultato a me è tutto un altro rossetto. Quindi dico anche no. Per me è bocciatissimo ragazzi. Sinceramente non voglio essere troppo cattiva. Però no. Sembra un classico rossetto liquido. Di quelli con le formule un po' vecchiotte. Non mi sembra nulla di innovativo. Nulla di wow. Mi dispiace. Se posso dir la mia. Se volevate comprare questo rossetto. Pensateci due volte. Sottolineo. Magari è un problema del mio rossetto. Però come consiglio in generale. Guardate online da più fonti. E non solo da una. Questo video quindi si conclude qui. Vi mando. Un bacione gigante. Ci vediamo ai prossimi. Ciao. Ciao. Grazie a tutti